Da Pesaro uno sforzo unanime trasversale verso un cessato in fuoco in Ucraina e in Palestina. Sabato nella sala del Consiglio Comunale si è tenuto l'incontro in dialogo per una cultura di pace promosso dalla rete italiana Pace Disarmo e sostenuta da Comune, Ali e CGL per lanciare una giornata di mobilitazione nazionale il prossimo 24 febbraio. Un appello alla pace sostenuto anche dalla presenza a Pesaro del segretario generale della CGL Maurizio Landini. Siamo nel pieno di una guerra che sta coinvolgendo tutto il mondo e dobbiamo assolutamente fermarla, dobbiamo chiedere un cessato in fuoco, abbiamo bisogno di fermare i bombardamenti, abbiamo bisogno di impedire quello che sta succedendo a Gaza, che sta succedendo in Israele e in Palestina e abbiamo bisogno di arrivare anche ad una conferenza internazionale di pace per evitare una deriva. Stanno aumentando le spese militari in un modo incredibile e abbiamo bisogno di raffermare il diritto di tutti i popoli, sia del popolo palestinese che del popolo israeliano, di poter vivere e di poter vivere in pace. C'è bisogno che i governi, l'Europa, le nazioni tutte si muovano in questa direzione e privalga di nuovo la diplomazia, la politica e la pace, non la guerra, la violenza e le armi. Noi lo dicevamo due anni fa quando c'è stata l'invasione di Putin dell'Ucraina, siamo sesi in piazza per dire che bisognava fermare il rischio che la guerra tornasse ad essere lo strumento normale di regolazione degli stati, dei rapporti tra gli stati, tra le persone. In realtà oggi questo non è più un rischio, è una certezza. E proprio perché c'è questa espansione dell'uso della guerra, del conflitto e della violenza, credo che sia il momento di scendere in campo, di scendere in piazza, come abbiamo chiesto di fare il 24 febbraio in tutte le città italiane, con tutte le persone che pensano che sia venuto il momento di battersi in questa direzione. E credo che bisogna anche dire in modo molto chiaro che oggi è il momento anche di fermare quello che sta succedendo a Gaza e garantire anche al popolo palestinese il diritto di avere uno Stato.